Il Consorzio di Bonifica della Calabria, dopo aver approvato le tariffe relative al consumo dell'acqua per l'anno 2024, ha emesso il ruolo irriguo che sarà recapitato ai consorziati nei prossimi giorni. Sono state mantenute le medesime tariffe dello scorso anno. Il Consorzio, sostiene il commissario straordinario Giacomo Giovinazzo, ha voluto dimostrare una grande sensibilità e vicinanza nei confronti dei propri consorziati irrigui, in particolare per gli imprenditori agricoli professionali ed i coltivatori diretti, per i quali c'è la possibilità di usufruire di un abbattimento del 25% sull'importo complessivo, pagando l'intero dovuto in un'unica soluzione entro il 30 luglio. Per gli altri utenti il 50% entro il 30 luglio ed il saldo entro il 30 settembre, con la possibilità di usufruire di un abbattimento del 10% sull'importo complessivo, pagando l'intero dovuto in un'unica soluzione entro il 30 luglio. In questi primi 200 giorni alla guida dell'ente, aggiunge Giovinazzo, abbiamo effettuato manutenzione delle condotte ed effettuato interventi in ogni distretto irriguo per la riduzione delle perdite e nel montaggio dei misuratori di portata, che rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il risparmio idrico e un utilizzo più consapevole e programmato dell'acqua da parte dei consorziati. Una grande spinta poi verso gli investimenti straordinari e essenziali per mantenere in efficienza la rete di canali e impianti. A questo va aggiunta la gestione più attenta e consapevole della risorsa da parte degli agricoltori, sulla quale, visto il sempre incombente spettro siccità, occorre leale collaborazione. Siamo riusciti a deliberare le tariffe mantenendo quelle di maggior favore rispetto a quelle dei consorzi in liquidazione, grazie ad un lavoro di riorganizzazione dell'ente e delle economie straordinarie legate anche alla scelta di effettuare i lavori di manutenzione in amministrazione diretta.